È stato presentato a Sulmona nella sala conferenze della comunità montana Peligna il libro La flora endemica minacciata delle montagne italiane. Il volume edito dal Club Alpino Nazionale fa parte della collana I manuali del Club Alpino Italiano ed è stato curato dalla Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano. Il Presidente Nazionale del CAE, Vincenzo Torti, nella prefazione sintetizza l'obiettivo del lavoro. Questo volume, dice, vuole essere un rinnovato invito a presentare ad ogni forum di biodiversità quella doverosa attenzione che spesso l'uomo dimentica anche nei compluti di se stesso. Il Club Alpino Italiano conferma in queste pagine il richiamo a quella sensibilità. Il tema specifico è quindi la biodiversità della flora, in particolare quella endemica, della quale dovrà essere colto ogni dettaglio, bisogno o vulnerabilità. I territori della montagna, analizzati nel volume per morfologia, racchiudono situazioni climatiche di altitudine e di esposizioni tali da consentire la vita e specializzazioni che arricchiscono la biosfera. Il volume è stato presentato da Luciano Di Martino, uno degli autori, è un botanico e direttore facente funzione del Parco Nazionale della Maiella. Con questo volume vogliamo informare tutti gli appassionati della montagna, di tutti gli appassionati della natura, in particolare quelli che sono iscritti al CAI, perché questo è il volume numero 33 di una prestigiosa collana del Club Alpino Italiano, che quindi dovranno porre più attenzione alle loro scelte quotidiane per salvaguardare la natura e quindi per assicurare il bene della terra alle generazioni future.